Ciao amiche e ciao amici, come attrarre la persona giusta? Questa domanda la ricevo veramente molto spesso. Innanzitutto devi tenere presente una cosa, che se vuoi attrarre la persona giusta, devi diventare tu la persona giusta. Perché, per farti un esempio, se sei una persona gelosa, sarà molto difficile che tu possa attrarre ad esempio persone o non gelose o che non ti fanno ingelosire. Proprio perché diciamo che noi tendiamo ad attrarre persone che vibrano alle nostre frequenze, che vibrano alle nostre, diciamo, che sono in sintonia con quella che è la nostra energia. I pensieri e soprattutto le intenzioni, soprattutto le predisposizioni, sono di fatto energia. Per cui, ad esempio, se sei una persona insicura, andrai ad attrarre o altre persone insicure, oppure persone che andranno a stimolare la tua insicurezza e che ti faranno, come dire, e che ti amplificheranno questa insicurezza, facendo sì che si realizzi la tua profezia, la profezia della tua insicurezza. E così via. Se sei una persona avara, incontrerai altre persone, magari non avare in denaro, ma avare in affetto. Perché, come dire, non può essere diversamente. Perché tra tutte le possibilità che tu puoi andare a incontrare, le possibili persone, è come se inconsciamente facessi una selezione e vai ad attrarre quelle che vibrano in sintonia alle tue frequenze, quelle che sono in sintonia al tuo karma. Quindi, se vuoi attrarre la persona giusta per te, devi cambiare. Devi iniziare a cambiare te, te stessa. Il tuo modo di rapportarti con gli altri, il tuo modo di rapportarti col mondo. Questo uno potrebbe dire, beh, ma è difficile. Sicuramente può essere difficile, ma sicuramente è la strada giusta. È la via regia per attraere la persona giusta. Inoltre, agire su noi stessi, diciamo, possiamo avere le leve per agire su noi stessi. Potrà essere difficile, ma sicuramente ce la possiamo fare. E comunque sono parametri che in qualche modo sono sotto il nostro controllo o possono rientrare sotto il nostro controllo. Per cui, trasforma te stesso nella persona giusta e sicuramente incontrerai ed attraerai la persona giusta a te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao! Alla prossima! Ciao!